giornata importante per il processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano perché oggi era il turno dei legali dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e anche della dirigente Ida De Cesaris. Allora per raccontarci com'è andata anche perché ci sono state anche delle affermazioni piuttosto importanti e declatanti da parte del legale dell'ex prefetto Provolo, l'avvocato Cagliazza e per noi c'è Luca Pompei proprio in tribunale. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Oggi si dovrebbe chiudere la parte relativa agli avvocati difensori dei 30 imputati al processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano e si chiude con due imputati eccellenti, l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e la dirigente Ida De Cesaris. Mattinata caratterizzata dalla lunga ringa del noto avvocato romano Giandomenico Cagliazza in difesa appunto di Provolo e De Cesaris, una lunga ring caratterizzata però da, e tra poco lo sentiremo direttamente dalla sua voce, da un aspetto molto importante. Intanto ha iniziato con il dire che la prefettura ha fatto tutto quello che andava fatto, attivando già dal 16 gennaio il CCS e riempiendolo di tutte le sue funzioni già dal 18 che la sala operativa era attiva e interveniva in base alle segnalazioni che giungevano in prefettura perché questo deve fare la prefettura raccogliere le segnalazioni e cercare di risolvere i problemi ma poi l'aspetto più importante nella ringa di Cagliazza è relativo al fatto che la neve che ha ricoperto la provinciale 8 che dalla Bivio Mirri porta all'hotel Rigopiano e soprattutto dell'indisponibilità di una turbina da parte della provincia di Pescara il prefetto Provolo non sapeva nulla scagliandosi indirettamente nei confronti non solo della provincia di Pescara ma di alcuni suoi dirigenti che avrebbero trattato in una ristretta cerchia di persone appunto queste informazioni senza informare la prefettura di quanto stava accadendo soprattutto nelle ore precedenti drammatiche alla tragedia di Rigopiano. Sentiamo allora l'Avvocato Gian Domenico Cagliazza che spiega questo importante aspetto e poi la Lina può tornare allo studio. Grazie. Nessuno ha mai informato i tavoli diciamo così organizzati dalla prefettura secondo gli obblighi di legge che sono stati puntualmente eseguiti dal prefetto nessuno ha mai fatto pervenire nemmeno la più pallida informazione sulla situazione che si andava complicando sulla provinciale 8 certamente non il 16 perché d'altronde non stava accadendo nulla, non ancora il 17 quando era stata liberata, non il 18 quando invece vi è traccia ampia che il problema comincia a porsi ma si pone tra soggetti di altri enti che non ne riferiscono in nessun modo né al prefetto né al tavolo dove pure come enti sono presenti. Le notizie decisive sono che non c'è una turbina e che non si riesce a liberare la strada. Questa notizia compare sulla scena del processo a partire dalla notte del 18 e rimane sconosciuta al prefetto, alla prefettura, al CCS, al tavolo fino alla tragedia. Questo è il processo. Nel tenuto all'oscuro il prefetto è un macigno contro la provincia o contro alcuni dirigenti? No, adesso non scaglio macigni contro nessuno, il mio compito è difendere il prefetto e il compito di tutti noi in questo processo è rispettare la verità degli atti. Il prefetto non ha mai saputo in nessun momento che non ci fosse una turbina in grado di aprire la strada come era stata puntualmente aperta il giorno prima, tant'è che arrivano i clienti il 18. B non ha mai saputo che gli operai addetti a questo avessero valutato che non c'era possibilità con i mezzi disponibili e che bisognava procurarne una.